Ciao, sono Daniela e ho due grandi passioni nella vita, il tennis e Roger e Roger Federer. Io molo tutto quando gioca a lui. Volevo creare un qualcosa di simpatico, non si sa mai. Io lo invito a cena. L'abbiamo preparato per l'occasione il piatto tricolore, l'abbiamo nominato così. Ciao Daniela, come stai? Ciao Roger. Io credo che certe emozioni non si possono spiegare. Se mi avessero chiesto probabilmente Dani cosa vorresti come regalo, non avrei potuto pretendere una cosa così bella, così grande.